Il CUP non può essere trasferito nei locali dell'ex pronto soccorso dell'ospedale di Sulmona a metterlo nero su bianco il direttore sanitario dell'azienda Alfonso Mascitelli che ha risposto con una missiva al consigliere comunale di Corfinio Raimondo Nesta che aveva rilanciato ai vertici astra la proposta già presentata dal Tribunale per i diritti del malato alla nostra emittente. Mascitelli spiega che in quell'area dell'area vecchia è stato trasferito l'ufficio delle cartelle cliniche come pure vi sono stati allocati gli ambulatori USCA e gli ambulatori vaccinali per i soggetti fragili. L'ex pronto soccorso rientra inoltre nel percorso Covid per lo svolgimento dell'attacca. Nulla di nuovo sotto al sole rispetto a quanto aveva riferito la consigliera regionale Antonietta Laporta dopo il sopralluogo effettuato nei locali CUP assieme al direttore sanitario Maurizio Masciulli è una figura professionale. Per ridurre le lunghe attese e gli assembramenti si sta pensando una copertura esterna mentre ci si chiede come mai in un'ala dichiarata inagibile nel 2015 come quella dell'ex pronto soccorso si continuino ad erogare servizi importanti come prestazioni e vaccini.